Meteo, nuvole e pioggia guasteranno il ponte di Ogni Santi, ma il primo novembre è salvo. Primo novembre è salvo, ma il ponte sarà comunque guastato da nuvole e pioggia. Sentiamo le previsioni del nostro esperto Alessandro Marcon. Buonasera, dopo la giornata solggiata di oggi e quella di domani primo novembre, sabato 2 novembre giungeranno ancora nuovamente delle nubi. Durante il pomeriggio avremo degli annuvolamenti sparsi in tutta la regione, con il cielo più coperto nel Basso Veneto. Durante il pomeriggio comunque ci saranno delle schiarite. Alla sera invece ritorneranno nubi con il cielo coperto e alla domenica mattina quando ci sveglieremo avremo delle piogge nell'ovest della regione, quindi nel Veronese, in espansione in tutto il resto della regione. Il pomeriggio invece avremo dei fenomeni intensi in tutta la regione, comprese prealpi e alpi, dove avremo della neve oltre 2000 metri, in abbassamento durante la serata. Nella serata appunto il tempo migliorerà con cielo coperto o parzialmente nuvoloso a partire da ovest verso est. Lunedì sarà una giornata transitoria con cielo poco nuvoloso, con delle schiarite. Martedì invece ci saranno nuovamente delle precipitazioni intense già dalla mattinata. Ma poi cosa dobbiamo aspettarci nei giorni seguenti? Fino a diciamo a metà novembre non avremo ancora i primi freddi, quindi continueremo con questa tendenza di temperature e di questa tendenza di tempo meteorologico. Invece per il seguire quindi la seconda parte di novembre vi invito a visitare il sito machetempofa.it